Cari azionisti, cari colleghi, vorrei trasmettervi un breve messaggio. La lotta all'epidemia Covid-19 è una sfida che sta toccando drammaticamente persone, famiglie e aziende in tutto il mondo per cui si rende necessaria la condivisione e la concertazione degli sforzi di tutte le maggiori realtà politiche, economiche e finanziarie a livello globale. In questo contesto anche il generale deve e vuole fare la sua parte. Il Consiglio di amministrazione ha costituito il 12 marzo scorso un fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro, 30 dei quali destinati immediatamente all'Italia. Parallelamente la compagnia ha mobilitato la sua rete globale coinvolgendo tutte le business unit perché si attivino nel reperire e indicare i migliori fornitori per acquistare le attrezzature mediche necessarie a cominciare dai respiratori. Le generali sono un player assicurativo e di asset management globale, una realtà economica e finanziaria costruita su solide basi, grazie anche ai suoi 70 mila dipendenti e a una rete di 150 mila agenti. Questa posizione comporta grandi responsabilità. In questi giorni abbiamo pertanto intensificato il dialogo con tutti gli stakeholder garantendo la continuità operativa, il servizio regolare alla clientela e la protezione della salute delle persone che lavorano per il gruppo. Vorrei ora rivolgere un messaggio particolare ai nostri azionisti, dai grandi investitori agli azionisti retail che rappresentano un quarto del nostro capitale sociale. Ci stiamo apprestando all'Assemblea annuale dei soci del 30 aprile, il tradizionale momento di incontro con tutto l'azionariato che per le ragioni legate all'emergenza Covid-19 quest'anno non potrà svolgersi secondo la prassi consolidata. Come indicato nell'avviso pubblicato dai nostri canali di comunicazione, il 30 aprile l'intervento degli eventi diritto al voto in assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato senza partecipazione fisica da parte dei soci. Questo adempimento si svolgerà a Torino, città nella quale mi trovo e dalla quale non posso spostarmi in linea con le disposizioni vigenti per il contenimento di Covid-19. Tuttavia, tutti i diritti dei soci rimarranno garantiti ma potranno essere esercitati in modalità diverse dal solito. Vi invito quindi a seguire le indicazioni che troverete sul sito internet della compagnia per dare deleghe e istruzioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno al rappresentante designato e trasmettere eventuali domande. Le risposte saranno disponibili dal 25 aprile sullo stesso sito. Continuare a partecipare alla vita della compagnia è fondamentale, anche se in modalità digitale. Per questo abbiamo confermato la possibilità di seguire l'assemblea in streaming audio e anzi, date le particolari modalità di svolgimento, stenderemo la trasmissione a tutta la durata di lavoro assembleare. Ci sembra questa la modalità migliore per permettere la partecipazione alla consueta platea di azionisti. Anche in questo caso potrete trovare le modalità di accesso sul nostro sito web. Ci troviamo a fronteggiare un'emergenza globale che richiede tutto il nostro senso di responsabilità e dedizione al ruolo che ognuno di noi svolge all'interno della società. Sono fiducioso che presto usciremo da questo momento di incertezza e le generali riprenderanno il percorso strategico intrapreso con successo in questi anni. Grazie quindi a tutti coloro che si stanno impegnando in questo periodo a tal fine e grazie della vostra attenzione.